Buonasera mister Alessandro Antinelli, RaiSport. Non è facilissimo giocare ogni tre giorni. Oggi avete pagato Dazio alla fatica perché il Milan di questa sera non era esattamente quello visto nelle ultime uscite. Quanto è difficile mantenere lo standard? Sicuramente è difficilissimo, ma non solamente per noi e per tutti perché è chiaro che questo sarà un finale di campionato molto dispendioso e noi venivamo da una partita fantastica e credo che anche a livello mentale sia stata difficile da gestire. Però io credo che la squadra sia stata bene anche stasera. Abbiamo faticato di più il primo tempo perché il Napoli ha palleggiato meglio di noi e ha preso delle posizioni che ci hanno creato difficoltà ma al secondo tempo siamo stati sicuramente meglio in campo con più compattezza, con più aggressività. Dispiace per aver preso il secondo gol quando invece stavamo comandando la partita ma ci abbiamo creduto fino alla fine. Questo è un ottimo risultato contro un'ottima squadra quindi io non ho visto troppe difficoltà nella mia squadra se non che in qualche scelta tecnica, in qualche passaggio dovevamo essere un po' più precisi lo siamo stati un po' meno del solito. Oggi Donnarumma ha fatto vedere grandissime parate gli capita spesso e anche due incertezze. Allora la domanda è all'interno del processo di crescita del ragazzo che è sempre giovanissimo ci possono stare due incertezze così oppure per lo status che ha il portiere della Nazionale del Milan Pioli si aspetta qualcosa in più? No no aspetta un attimo, io a parte che non ho rivisto il gol non so se veramente sul primo gol credo che per Gigi era difficilissimo perché la palla ci ha superato eravamo un po' schiacciati non siamo usciti ad attaccare la palla con i difensori quindi non credo che sia stata una sua incertezza Gigi sta avendo un rendimento eccezionale sta crescendo mese dopo mese partito dopo partito quindi io sono completamente soddisfatto delle sue prestazioni. Ibra chiaramente oggi non ha gradito la sostituzione però è nella logica anche questa del personaggio è normale che lui si arrabbi così tanto o è una mancanza di rispetto nei confronti degli altri visto che i cambi ci stanno in questo momento? No no ma Ibra a parte che è normale che si arrabbi ma non si è arrabbiato per il cambio Ibra si è arrabbiato perché potevamo fare meglio in alcune situazioni potevamo giocare meglio e anche lui può fare di più ma Ibra si è rinissima a fine partita è stato insieme ai suoi compagni ha fatto i complimenti sta bene assolutamente ci vuole dare una mano fino alla fine come tutti vogliamo fare. L'ultima per me continuate a guardare su chi vi precede perché c'è ancora da finire un lavoro o guardate anche dietro perché c'è un Sassuolo che sta correndo? Saranno sei partite difficilissime per tutti per noi, per il Sassuolo, per il Napoli, per la Roma, per il Verona, per tutti quindi non ci si può permettere di perdere tempo a guardare troppo né guardarci troppo indietro né guardare troppo avanti ma sapere che però se vogliamo migliorare la nostra posizione se vogliamo centrare l'Europa bisogna fare tanti punti 6 partite cominciano a diminuire però 6 partite sono ancora tante da giocare ogni 3 giorni quindi c'è bisogno di tutte le energie che abbiamo c'è bisogno di tutti i giocatori che abbiamo a disposizione e c'è bisogno di pensare ancora una partita alla volta per altri 20 giorni con la testa molto dentro a quello che facciamo Allora, cambio della guardia buonasera, mister Massimo Marchesi Radio Rai elenco un po' di risultati del post-covid 2-0 alla Roma 3-0 alla Lazio 4-2 alla Juve 2-2 stasera col Milano insomma equivale a una vittoria per come si era messa la partita e perché avete giocato su un campo insomma molto complicato contro una squadra tra le migliori del campionato e qui ci sono parecchi rimpianti probabilmente da parte vostra per non essere veramente ancora più su per non lottare per la Champions I conti si fanno alla fine adesso non è il momento dei rimpianti non è il momento di perdere energia per guardare il passato oltremodo per perdere e per pensare al nostro futuro il nostro futuro adesso il nostro futuro sono le prossime 6 partite e vogliamo finire questo campionato senza rimpianti dando il massimo come abbiamo sempre fatto e non si può non dimenticare che lavoriamo insieme tolto che dobbiamo togliere questi due mesi 70 giorni di lockdown dove non abbiamo potuto lavorare lavoriamo insieme credo da 5-6 mesi e quindi ci vuole tempo per costruire ma noi siamo già abbiamo raggiunto già un buon livello ma adesso dobbiamo fare di tutto per consolidarlo e per cercare di migliorarlo ripeto perché la classifica è ancora lì abbiamo accorciato dopo la ripresa in avanti e dobbiamo cercare di farlo fino alla fine mai come in queste partite serve il contributo della panchina e mi sembra che stasera il contributo sia stato molto importante perché ad esempio il rigore se l'è procurato a Buonaventura Leao è entrato subito in partita ci sono delle risorse importanti su cui poter contare anche da parte di chi non parte di dolare in questo Milan Assolutamente sì tutti i giocatori sono pronti tutti i giocatori anche in tutte queste partite chi è entrato ha fatto molto bene e deve essere così perché cercherò di sfruttare sempre o al massimo questi cambi a disposizione perché le fatiche cominciano a farsi sentire le energie calano e quindi c'è bisogno di farsi trovare pronti e ripeto che non è così importante la quantità del minutaggio cui sei impiegato ma è la qualità e quindi se giochi 5 minuti devi dare il massimo per la squadra e lo stiamo facendo e stiamo ottenendo dei buoni risultati anche per questo assolutamente bisogna insistere Chiudo parlando forse della nota negativa della serata in casa Milan che riguarda ancora una volta Paquetà non riesce proprio ad emergere questo ragazzo le stai provando tutte ma c'è poco da fare Io credo che Paquetà abbia lavorato tanto per la squadra volevamo mandarli dalla porta opposta quindi lui ho scelto più un centrocampista piuttosto che un esterno inizialmente perché avevo bisogno che rientrassi dentro il campo e che poi provasse a lavorare tra le linee è stato un primo tempo un po' difficile per tutta la squadra quindi è chiaro che anche i singoli possono non essere riusciti a dare il 100% ma lui deve continuare a lavorare ha delle belle qualità e quindi riuscirà sicuramente a dare e sta riuscendo a dare il suo contributo alla squadra Grazie Stefano Grazie